Brick e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Nonostante... Nonostante tutto ciò, cioè nel senso che sono appena arrivata a casa Perché, vabbè Comunque Ragazzi, oggi è la story time È la mia prima story time praticamente su YouTube Aspettatemi La prima story time su YouTube E... niente Vi racconto le cose che faceva mia sorella Durante la mia presenza Quando ero presente Vabbè, questo video non avrà neanche la musica comunque Quando ero nelle Filippine, ragazzi, mia sorella faceva delle cose strane Prima cosa... Devo smettere di spaccarmi questa coscia Vabbè Comunque la prima cosa che faceva mia sorella Sorellina di tre anni, ora È quella di... Andare per... Cioè, andare per casa piangendo senza un motivo Ragazzi, è una cosa stranissima Non fai capricci però Piangi in questo modo Oddio Mi fa tenerezza, giuro Cioè, raga Ma voi non avete idea Poi ditemi nei commenti se vostra sorellina o fratellino fa anche così La seconda cosa che faceva mia sorella E... vabbè Sempre andando in giro Vai in giro E parla da sola E fa dei movimenti strani Come, non so, mettere tipo sui fianchi il braccio piegato Che ne so, aspettate Tipo, nella mia mano sinistra Metto il braccio piegato così Camminando e muovendo Stranamente il braccio Comunque Queste cose fa stranissimo Cioè, queste cose qua fanno molto strana Sono molto stranissime Sono stranissime Ah Quindi La terza cosa che faceva mia sorella Ovviamente Quando mangiavamo a tavola Mio Dio, sti capelli Scusatemi Quando mangiavamo a tavola Lei si mette A mangiare In modo strano Perché Indulciglia tutta la bocca così E... Allora Mamma diceva Hai la bocca piccolina Apri sta boccuccia Che carina Cioè E poi Quarta cosa che faceva mia sorella E giuro Mi metterete Vi metterete di sicuro A ridere E Una cosa molto inquietante Bacciare in bocca la bambola Per me è stranissima Non so per voi Ma la bambola sua Non è normale La bambola Aveva una bocca spalancata Cioè La bocca spalancata Ma grande La bocca grande Mi giuro Mia mamma Mi guardava Come per dire Ok Ma non sei più mia figlia Non riconosce più mia sorella Giuro Ragazzi Se vi piaciuto questo nuovo video Iscrivetevi al mio canale E cliccate un bel mi piace Mettete un bel like E Seguitemi su Instagram E lasciate un bel commento E Ciao Ci vediamo nella prossima story time